Il giro di Giulio Ciccone è finito ieri a Valdobbiadene, anzi a Conegliano, perché il portacolori della Trek Segafredo non ha preso il via nella cronometro vinta da Filippo Ganna. Nel comunicato ufficiale della Trek Segafredo si legge bronchite per il corridore teatino. Troppa l'acqua presa da Giulio Ciccone nelle tappe dell'Etna, di Camigliatello, di Roccaraso e di Cesenatico in un fisico già debilitato un mese fa dal coronavirus. Giulio Ciccone non è riuscito a recuperare la migliore condizione, allora meglio lasciare il Giro d'Italia, dedicarsi a qualche giorno di riposo e programmare un grande 2021. L'obiettivo per Giulio Ciccone in questo giro era quello di aiutare Vincenzo Nibali per conquistare la Maglia Rosa e perché no levarsi qualche soddisfazione sulle grandi montagne. Grandi montagne che inizieranno oggi con la scalata verso Piancavallo, poi dopo il giorno di riposo in successione Madonna di Campiglio, Passo dello Stelvio, Laghi di Cancano e sabato prossimo il Colle dell'Agnello, l'Isoard e l'arrivo al Sestriere. Giulio Ciccone non ci sarà, speranze abruzzesi tutte su Dario Cataldo che lo scorso anno vinse la tappa di Como. Dario Cataldo sta bene in questo giro, ha Tortoreto approvato l'azione con Peter Sagan, sicuramente ci riproverà a cominciare dalla tappa di San Daniele del Friuli.